De natalità, Zero Branco va in controtendenza. Il saldo dei nuovi nati è in positivo e questo spinge l'amministrazione a incentivare le iniziative a favore delle famiglie con figli in tenera età, come l'albo comunale delle babysitter. Personale appositamente formato da mettere a disposizione dei genitori per la cura dei loro figli da 0 a 14 anni. Abbiamo questo trend che si era un po' bloccato durante il periodo della pandemia ma che adesso sta riprendendo. Abbiamo per fortuna tanti bambini e tante famiglie che fanno nascere i loro bambini a Zero Branco oppure che decidono di trasferirsi qua a Zero o anche con figli piccoli, probabilmente dovuto allo spirito e al senso di comunità che accompagna questi ragazzi e poi ai servizi che in qualche modo sono incentrati soprattutto sulla giovanità. Sei le babysitter dai 24 ai 65 anni che tra aprile e maggio hanno preso parte al corso di formazione promosso dal Comune in collaborazione con l'Associazione Edera, così da essere pronte a svolgere questo incarico. Perché non si è improvvisato abbiamo scelto degli argomenti che riguardavano la possibilità di imparare il primo soccorso, il BLSD, la rianemazione cardiopolmonare nei bambini, poi il discorso dell'alimentazione, del trattare i bambini che nascono o che hanno delle disabilità. Insomma tutta una sfera di competenze per cui è importante che le babysitter abbiano. Le famiglie che si sono fatte già vive per attingere all'elenco comunale sono una decina. Visto il successo l'amministrazione intende portare avanti anche negli anni futuri questa iniziativa. Adesso una volta che abbiamo diciamo rodato un po' questo meccanismo potremo sicuramente condividerlo anche con gli altri comuni.